Musica Abbiamo presentato oggi questo nuovo prodotto Istat, portale sistema statistico e informativo sulla pubblica amministrazione. Quali sono le cose più rilevanti? Innanzitutto risponde a un'esigenza definita da molte norme per misurare e valutare la pubblica amministrazione. È un tema all'ordine del giorno, non c'è bisogno di sottolinearlo. La caratteristica fondamentale di questo sistema è che fornisce informazioni individuali per singolo ente, dove possiamo, siamo arrivati a elaborare indicatori che descrivono le risorse, il personale, le risorse finanziarie, che tipo di caratteristiche ha il sistema di produzione e che tipo di servizi rendono la cittadinanza. Questo a livello di singola amministrazione, soprattutto per le amministrazioni regionali e locali. Quindi tutti i cittadini nell'ottima massima trasparenza potranno divertirsi e giocare andando a confrontare quant'è la spesa del personale nel comune A rispetto al comune B, rispetto alla provincia C, rispetto alla regione D, perché l'importanza è anche trasversale tra diverse amministrazioni. Questo ritengo sia il valore aggiunto informativo maggiore di questo sistema informativo.